buona serata da prealpina.it partiamo con la cronaca tragedia attresa a pochi chilometri dal confine con l'italia alessandro bosetti un motociclista 28enne di agra nel luinese da poco residente in provincia di como ha perso la vita nello scontro con una auto condotta da un 42enne svizzero domiciliato nel luganese il tremendo incidente avvenuto ieri sera nella frazione di croglio a pochi chilometri dal confine il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto i tentativi dei soccorritori di rianimarlo purtroppo sono stati vani la strada rimasta chiusa fino alle prime ore di oggi è un'altra triste notizia un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno a milano l'incidente è avvenuto poco prima delle 13 lungo la linea tra il quadrivio turro e il bivio mirabello il corpo del trentenne quasi certamente di origine africana e senza fissa dimora è stato recuperato dai vigili del fuoco il traffico ferroviario sulla linea è stato interrotto per alcune ore e ci spostiamo a varese un gruppo di ragazzi ha piccato il fuoco alla palafitta che sorge all'esterno del museo di villa mirabello danni lievi ma profonda amarezza e alcune dure reazioni il servizio sono molto amareggiato è proprio vero che anche le cose belle vengono rovinate l'ha detto il direttore dei musei civici daniele cassinelli commentando con rassegnazione l'episodio di ieri pomeriggio quando un gruppo di ragazzini ha dato fuoco alla palafitta installata all'esterno del museo di villa mirabello a varese che fa parte dell'esposizione la civiltà delle palafitte aperta fino al 4 settembre il fume le fiamme sono state viste dalla custodia di villa mirabello la quale è intervenuta tempestivamente evitando che il fuoco si espandesse all'interno dei giardini estensi e che la situazione degenerasse i ragazzini responsabili del gesto si sono dati alla fuga solo uno si è fermato a spegnere il principio di incendio sul posto sono intervenuti i carabinieri la conservatrice archeologa barbara cermesoni spiega che purtroppo altri atti vandalici come le scritte hanno rovinato l'installazione il consigliere comunale della lega stefano angei interviene duramente sui social il comune di varese deve denunciare questi ragazzini e far pagare ai loro genitori fino all'ultimo centesimo scrive su facebook invitando a non provare a derubricare quanto avvenuto come una ragazzata finita male e chiedendo di avere tolleranza zero per i vandali vandali in azione la notte scorsa a saronno a essere presa di mira è stata la locomotiva storica posizionata sulla rotonda all'ingresso della città e donata da luigi lazzaroni il servizio di roberto banfi con immagini di domenico ghiotto via agenzia blitz si trova nel mezzo della grande rotonda vicino all'uscita autostradale di saronno tra via novara via lazzaroni e via europa non vederla è proprio impossibile si tratta della storica locomotiva del 1883 simbolo del legame fra la città e la ferrovia che a fine ottocento aveva portato la rivoluzione industriale a saronno durante la notte la locomotiva è stata completamente imbrattata da qualcuno armato di vernice spray bianca il mezzo ferroviario era stato salvato dalla demolizione dall'imprenditore degli amaretti e dei biscotti luigi lazzaroni che l'aveva restaurato e infine donato alla città ed è esposto dal 2010 al centro della rotonda situata proprio all'ingresso di saronno ancora cronaca due incendi in altrettante abitazioni accaduto nel giro di poche ore questa mattina in ossola i particolari nel servizio di marco d'ambrosis due case in fiamme in ossola il probabile malfunzionamento di un letto domestico sarebbe all'origine di un incendio che si è sviluppato all'alba in una casa di varzo l'allarme scattato intorno alle 4 e 30 quando una donna residente nei pressi della chiesa parrocchiale ha udito un forte boato allertati i soccorsi sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione una squadra dei vigili del fuoco degli staccamenti di domodossola e due squadre provenienti dagli staccamenti di villa d'ossola e di varzo sono state necessarie circa tre ore di lavoro per spegnere il ruolo di vampato nell'abitazione al cui interno per fortuna non vi era nessuno e mettere insicurezze locali bruciati e invasi dal fumo che sono stati dichiarati inagibili nessun ferito dunque ma danni ingenti allo stabile e ancora questa mattina intorno alle 9 e 30 i pompieri di villa d'ossola e domodossola sono stati impegnati nel comune di bevro a cardezza per un principio di incendio dovuto al malfunzionamento di una stufetta elettrica grazie alla prontezza di intervento dei vicini di casa l'inquirina è stata aiutata a mettersi in salvo per poi essere trasferita all'ospedale di domodossola per accertamenti solo danni lievi all'abitazione e torniamo a varese dove la festa della montagna è indirittura d'arrivo il bilancio è fin da ora positivo l'intervista ad antonio verdelli responsabile degli alpini di varese la festa della montagna 2022 non è ancora terminata ma possiamo tirare un primo bilancio sì possiamo tirare un primo bilancio e tiriamo un bilancio positivo un bilancio positivo fatto di grandi sorrisi ed è questo per noi e forse la busta paga più importante un bilancio positivo fatto che i bus navetta hanno funzionato benissimo un bilancio positivo perché gli eventi sportivi sia la moto donata sia la crono scalata hanno avuto dei successi notevoli un bilancio positivo per tutti gli eventi collaterali il concerto jazz il coro degli alpini la serata con il teatro non ultima ieri sera la discoteca insomma possiamo solo che essere contenti siamo contenti che la gente ha apprezzato la nostra polenta i piatti sono sempre piacevolmente vuoti per cui siamo felicissimi passiamo allo sport europei di nuoto ancora un espluati gemma galli stella di busto nuoto nel sincronizzato oggi ha conquistato il terzo argento nella competizione continentale ospitata a roma la 26enne originaria di carugate è stata infatti tra le grandi protagoniste del secondo posto conquistato dal team azzurro nella finale del libero combinato oro per l'ucraina bronzo per la grecia e chiudiamo con il calcio in attesa di capire quando inizieranno coppa italia e campionato la propatria prosegue il suo cammino d'inizio stagione tra allenamenti e amichevoli ieri il doppio esame a borgossese con i padroni di casa e con il verbania il servizio con immagini di domenico ghiotto di agenzia blitz soddisfatto per il presente fiducioso per il futuro horge vargas allenatore cileno della propatria sorride dopo l'allenamento congiunto tenuto ieri a borgossese affrontando il verbania squadra di eccellenza e i padroni di casa che militeranno in serie d i bianco blu arrivano a ferragosto dopo settimane di preparazione proficue rovinate soltanto dagli infortuni di ghioldi rossi e molinari le prime amichevoli hanno riscontrato l'ottima tenuta difensiva la porta è stata violata ieri dal verbanese tettamanti nel 1 a 1 del primo mini match della triangolare sesiano di niccol gol dei tigrotti per il resto la tenuta della retroguardia nelle prime uscite è stata granitica un buon viatico anche perché a borgossese nella successiva sfida con i padroni di casa è arrivato un successo senza subire reti 1 a 0 gol di castelli ora in attesa di capire quando inizieranno gli impegni ufficiali di coppia italia e campionato la propatria riprenderà ad allenarsi dopo ferragosto sabato prossimo amichevole col renate sede e orario ancora da stabilire questa edizione termina qui vediamo appuntamento a martedì 16 agosto alle ore 19 e auguriamo a tutti voi buon ferragosto